Posizione! Bene, alcuni vanni hanno formato una banda e stanno imperversando in diversi isolati. Saccheggi, intimidazioni, ne combinano di tutti i colori. Li metto in riga io, che altro hai? Il sindaco ha ordinato a Silver Sable di trovare a tutti i costi Lee e Octavius. E lei sta rastrellando gente a caso, rinchiudendole in centri sparsi per la città. Pare stia ricorrendo persino a tecniche di interrogatori estreme. Tortura, vuoi dire. Tranquilla. Ci penso io. È la nostra città, Yuri. Riprendiamocela. Perfetto. I miei uomini stanno cercando i supercriminali. Ti aggiorno appena ho novità. Per ora, cerca di mantenere l'ordine in città. Perfetto. 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 Grazie a tutti. 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 Com'è che criminali e incendi vanno sempre di pari passo? Sembrerebbe... Che bel valore! Ecco una storia del terrore. Si chiama Tornare in Cella. Ho provato a chiamarti tutto il giorno. Stai bene? Stai bene? L'evasione di Tornare ha seminato il caos ovunque. Sto bene, zia May. Tranquilla. Sono più preoccupato per te. Grazie a tutti. No, non devi. Il rifugio è il più sicuro della città. Le altre sedie a nord non se la passano bene, ma qui la situazione è il tutto controllo. Spero tu abbia ragione. Faccio un salto appena posso, zia May. Ti voglio bene. Anche io. Qualcuno lo riporti. Forza! Andiamo a prenderlo! Bomba in bocca! Che diavolo? Odio vedere la città in questo stato. Dobbiamo riprendere il controllo. Ehi, Jenny! Potevate lasciarmi in pace e non vi avrei neppure notati! Ha bloccato Jake! Occhio! Spoiler! Questa gita si conclude a Riker! Non vorrete tornare dentro! Uccidetelo! Uccidetelo! Abbiate! Prendetevi! In prigione dovrebbero dare lezioni di guida. Spiderman, i pezzi grossi e i vasi da raft stanno assediando i distretti. Ai miei uomini serve una mano al più presto. Raggiungi un punto d'osservazione e ti spiego tutto. Vado, è Octavius. No, due dei suoi amichetti. Il dottore lo stiamo ancora cercando. Sarò onesta. Quel tipo mi terrorizza. Temo sia il supercriminale più scaltro che abbia mai affrontato. Già, è quello che mi preoccupa. Ok, resisti capitano. Qui comando Sable, in attesa di aggiornamenti da Kramer, sì. Posto di blocco Charlie, attaccato dai demoni. No, non, 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 non. Ok, capitano, sono pronto. Dimmi tutto. Rhino ha saltato il distretto dell'Upper West. Electro è nell'Upper East. Devi intervenire. Uno vale l'altro. Sono entrambi nei guai fino al collo. Attenzione, fuoco sulla polizia da posizioni elevate. Sospetti sconosciuti. Peter, hai tempo? Serve aiuto al rifugio Fist, che si trova a nord. Il rifugio per i veterani di Harlem. Che succede? Degli vasi di Riker chiedono cibo e provviste. Il personale è barricato all'interno, ma non resisterà a lungo. Io e Miles andiamo ad aiutarli. Non fare nulla prima del mio arrivo, Mei. Ci vediamo ad Harlem. Sia Mei sempre esausta. Spero di cuore che lo sia malato. Devo aiutare Yuri poi andare ad Harlem. Attenzione, alcuni fuggitivi stanno saccheggiando un deposito alimentare. Servono a... Yuri, mi avvicino al distretto dell'Aperista. Bene. Electro e i Demony hanno bloccato i miei uomini. La situazione è delicata. Capirai meglio quando sarai lì. Yuri Watanabe, maestra della suspense. A tutte le unità. Agenti sotto il tiro dei cecchini. Segnalazione da Greggie Mansion. Passo. Ah! 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 Si mette male. L'elettricità dei trasformatori impedisce ai poliziotti di uscire. Yuri, la situazione è molto delicata. Per liberare i tuoi uomini dovrò disattivare quei trasformatori. Anche se ci riesci, gli servirà comunque il tuo aiuto. Sono qui apposta, pronto a risolvere qualsiasi problema elettrico o demoniaco. Cinque trasformatori in tutto. E coprendoli di ragnatela dovrebbero surriscaldarsi. Almeno spero. Si mette male. No, 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 no. Due sistemati, altri tre. Quando Electro era nel raft non sentivo la mancanza delle sue diavolerie da supercriminale. Intrappolare dei poliziotti in una rete di trasformatori, ma come se li inventa? Intrappolare dei poliziotti in una rete di trasformatori. Ok, ne gastano due. Intrappolare dei poliziotti in una rete di trasformatori. Intrappolare dei polizziotti in una rete di trasformatori. che blocca gli agenti appeso a quell'elicottero. Wow, mi sa che sono il primo nella storia a dire queste esatte parole in questo esatto ordine. Alla prossima Gli agenti sono liberi ma i demoni non si arrendono. Devo dare una mano. Alla prossima Yuri, i tuoi sono al sicuro. Novità? Dirigiti alla Upper West Side. Stiamo provando a proteggere i civili ma Raynon non lo rende facile. Sì, è fatto così. Mi muovo. Un messaggio di Miles. Pete! Ehi Pete! May mi ha chiesto di chiamarti. La situazione al centro per i veterani non è buona. I detenuti vogliono sfondare le porte. Sono qui con Mary Jane. Stiamo evacuando l'edificio dal seminterrato. Ma ci serve una mano. Vieni subito se vuoi, ok? Devo sbrigarmi con i distretti a andare a Harlem. Allerta, dove vasi? Stanno sbando le scorte di emergenza. Richiedo agenti nell'area di Columbia. Come, hurry! Come out now! Come out, come out! Come! Come! Come out! Come! 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 Yuri, Rhyno è in fuga, ma gli ex ospiti di Riker hanno preso d'assalto le barricate della polizia. Vedo di aiutarli. Grazie. Se sfondano le barricate, c'è dentro il faccia. Rhyno è in fuga, ma gli ex ospiti di Riker hanno preso d'assalto le barricate della polizia. Vedo di aiutarli. Rhyno è in fuga. Non avevo mai visto Rhyno tirarsi indietro da un combattimento. Devo essere agli ordini del Dottor Octavius. Brevi attacchi mirati alle squadre di pronto intervento. Rhyno è in fuga. Rhyno è in fuga. Grazie. 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 Truppe volanti di Sable sistemati. Ora devo occuparmi del resto dei fuggitivi di Riker. Yuri, di stretto sicuro. E ho scoperto cosa significa essere un bersaglio prioritario della Sable. Non mi piace. Così impari a importunare i mercenari internazionali? In effetti. Ok, ora devo lasciarti. Chiamami se qualcosa va storto. Certo. E grazie. Senza di te non avremmo avuto chance. Ok. Devo correre al rifugio fisto di Harlem per aiutare Zia May.